Anche per l'anno 2013, grazie alla collaborazione dei ragazzi Down e dei volontari, è stato realizzato il calendario. Ricordiamo l'acquisto, a cosa servirà? Allora, è preciso che il calendario è disponibile con un'offerta minima di 5 euro presso l'Associazione Italiana Persone Down di Terramo in via Diaz 2 il lunedì, il martedì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18. I fondi raccolti grazie al calendario verranno utilizzati per finanziare le numerosissime attività della nostra associazione e sono attività fondamentali per rendere il loro futuro accettabile e dignitoso. Quindi, prima di tutti, direi la casetta, come noi la chiamiamo, cioè che è un'esperienza di casa famiglia, in cui i ragazzi imparano a gestire in maniera quasi totalmente autonoma, soltanto sotto la supervisione di alcuni operatori, il vivere quotidiano. Inoltre, anche diciamo così, non perdiamo di vista l'aspetto ricreativo che potrebbe essere il laboratorio della creatività, il laboratorio teatrale e anche, per i più piccoli, il corso di autonomia, che è l'apprendere delle autonomie sociali senza le quali non si potrebbe raggiungere l'indipendenza. E poi abbiamo anche l'agenzia del tempo libero, che è riservato alle persone, diciamo, più grandi, che hanno già acquisito delle autonomie sociali, che è praticamente come gestire il loro tempo libero. Quindi organizzano delle giti, organizzano degli aperitivi genati, organizzano il 31 dicembre, cioè il San Valentino, ma si organizzano il loro tempo libero. E qui con me ci sono quattro dei protagonisti del calendario. Cosa hai interpretato? Indivia E tu? Io ho lavato E io ho interpretato l'acidia E tu? La gola Peccato di gola, quindi sette peccati capitali. Vi siete divertiti a realizzare il calendario? Sì Cosa ti piace fare di più durante l'anno? A me mi piace sia il teatro, sia musica, sia le altre attività. L'agenzia del tempo libero. Cosa fai? E organizzano i viaggi, le gite. A te invece cosa ti piace fare di più? A me mi piace la musica, poi mi piace la parrucchiera. Il ballo. Che tipo di ballo? Latino e americano. Tutte attività che potranno certamente realizzare grazie alla raccolta fondi proveniente dalla vendita del calendario 2013.